Ehi Taco, ti piace andare sulla nostra stessa nave? Sì, è piuttosto divertente. Ma è fastidioso quando spesso abbiamo bisogno di guardare le partite di TV. Perché non si vedi cosa sono a pezzi? Che mocio sopagnuoloso. Ma hey, cos'è quella luce brillante? Oggi ci puoi tre. Sono sul cielo, quella è la nave di Babbo Natalex. La nave di Babbo Natalex? Ma chi è Babbo Natalex? Beh, non ho mai visto Babbo Natalex con i miei occhi. Ma da quella che ho sentito, ti vedo da quando dormi, sono quando sei sferio, sono se sei stato cattivo o buono, quindi sei buono per l'amore del cielo. Accidenti, Babbo Natalex sono un po' da bimbi. Non possiamo sparare un leso di nuovo per farli sparire? No! Perché non lo fai? Perché ci piace Babbo Natalex. Cosa? Perché mai dovremmo voler Babbo Natalex? Perché ci fa dei regali. Oh, allora anche io lo tacco come Babbo Natalex. Anche io non lo piace Babbo Natalex. Perché a tutti non ci piace di fare dei regali, di tutti sono stato cattivo o buono per l'amore del cielo. Di tutti sono stato cattivo o buono per l'amore del cielo. Ah ah ah! Come fallete ragazzi, mascazoni? Ora voglio che andiate a dormire. È l'ora dei sogni! Sì, ma buono per l'amore del abito! Cosa? Eh, perché mi sono addormentato in mensa? Che strano! Oh, la mia labiera! Quanti regali! Eh, che c'è questo biglietto? Tamello! Ecco le vostre dosse annuali dei regali Natalex. Sono tutti estremamente freddo. Speri che vi apprezzano. Buon Natalex, Babbo Natalex. PS, vi ho tenuto d'occhio e due di voi su dieci quest'anno sono stati molto cattivi per una scritta la varora vergogna 400 volte. Che strano! Cosa pensi che significhi profilo? Non ne ho la minima idea. Di notte non c'è un vero concorrente. Non so come sei finito sulla nostra nave. È una festa. Ragazzi, se due di noi non sono i nostri cattivi probabilmente significa che quelle due persone sono così avide che uccideranno i gesti di noi per avere altri ragazzi di Babbo Natalex. Dobbiamo capire chi sono per salvare i nostri sessi. Ehm, Donna, sembra un po' inverosimile. Cri è morto! Va bene, chiedevo a due l'ha fatto. Eravamo tutti troppo vicini al corpo. E già ci rende possibile con l'uccisione per i cattivi? Ruby, il nostro amico è stato appena uscito. Aspettiamo le battute. Nel caso in cui un altro di noi soffo che... Ruby non è una tia di razzata. Oh cavolo, Taco non avevo dovuto ascoltarti. Ehi, che mia difesa. Ruby si comportava in modo piuttosto aspetto. Però ragazzi? Ho problemi a respirare? Dobbiamo riparare fornitore di ossigeno. Siamo arrivati, no chissà. Poi dovremmo prendere il distributore di naso adesivo. Tacco e pen. Poi dovremmo coprire il buco con il naso adesivo. Belloni, muoio... Wow, la vostra testa diventa da un gruppo in basa. E' la cosa delle minore pressione dell'aliena. Presso. Ce l'ho! Bello. Ora risistemiamo questo contenitore. Allora, profilo, perché non è che stai subito da tu? Siamo un po' con sospetto. Oh, beh, non mi viene facile. Davvero facile. Devo farla guardare quasi da gare nel caso in cui i cattivi impostori vogliano rubarli. Inoltre, noi anonimi e vassori non abbiamo bisogno di stupido ossigeno. Il nostro sangue sconde una saguosa elettricità. Silenzioso! E' ora di fare silenzio, profilo. Oh, eh... Devo fare le mie cose. La tua cosa? Beh, ovviamente torno da quello cattivo, vero? Ha sempre avuto un buco nella sua logica. Ora muoio. Oh, ragazzi, potresti finire di incontrare prestoso per scoprire da un momento ad altro. Ma, no, 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 vedi palloni. Ci siamo quasi. E' fatto. Ben fatto, Ben. Oh, la mia, fabbrica di pene. Palloni è morto. Ed è che era vincito nel corpo. Questo mi sembra un po' sospetto. No, è l'unio morto perché la pressione dell'ossigeno stanno è diventata un po' bassa Avete visto che la zona sete si è montata Vero? Oh, è vero, è diventata la stessa, è piuttosto evidente Comunque, ora che l'ossigeno è tornata nell'umanità Perché non iniziamo a fare qualche compito per la mantenzione di questa nave? Sicuramente Eh, già La dirà dirà, la prendo questo e questo Mi chiedo, cosa potrebbe essere? Siamo piuttosto pesante, quindi deve essere buono Mi che me lo danni dal corpo a me che gli altri ne tornino Oh, beh, è ora di fare fin di essere in ogni stazione Hey, Ken Guardami, mentre faccio una scansione Che figata Guardami, mentre porto fuori la spazzatura Che figata Guardami, mentre guarda Si mette in imbarazzo Facendo una stupita tanzi inostanza Che non la betta le camere di sicurezza Ehm, figo Aspetta, cosa è quella luce la salata già? Guardami, c'è un pare sul corpo mutilato di profilo Non figato Oh, c'è l'ora dell'unore? Va bene Allora, dov'è il corpo? Un lato sinistro della manza E Ken era con me da sempre Quindi non poteva essere lui Aspetta Anche Rocky è stato ucciso Per essere onesti Rocky, secondo me, non sanno almeno come fare i compiti Quindi forse stiamo meglio senza di lui Scusate, scusate Mi rimangio tutto Forse dovremmo saltare Ho quasi i miei compiti Non possiamo saltare ora Sono rimaste due persone cattive Quindi tutto quello che devono fare Uscito in un atto di noi Possono essi tutti per i regoli di Pommo Natale Forse dobbiamo imbottare contro di te E chi Ken ed io abbiamo avuto dei sospetti su di te per un po' Cosa? Perché io? Non può essere di nuovo per quella Delle bambini Cioè, chi poteva dirlo con chiostezza? Ragazzi, pensate un po' Donut è stato l'ultimo che mi sono visto con profilo Poi io ti Quanto sono andati tutti insieme a fissare l'ossigeno Deve essere Donut Ottima osservazione Potrei dover riconsiderare il suo voto Sì, sì, è l'ora di votare Sì, sì, sì era una cattiva ragazza ottima scelta Egy avevi ragione si ragazza lo sai che sposo sempre fatti ok è bello saperlo comunque finiamo tutti i nostri compiti ok quindi siamo comunque qua se voglio di avviare questo reattore di programma estremamente modificoso giocando al gioco dei compiti schiacciare i bottoni che divertimento ho cifato beh immagino di dover passare l'impianto elettico ora accidenti accidenti non so dove sto andando ah ci stiamo scattando qui o questa è una potechiosa aspetta chi sei hai in mano un frullino per le uova ok ok ragazzi si devo dirigi mentre avviando il reattore quando le luci si sono splendide e oh mio fabbro Egy è stata uccisa bene allora deve essere Tako io e te abbiamo fatto compiti insieme per tutto questo tempo quindi votiamo Tak e vinciamo eh si dovemmo farlo wow 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 aspetta so non puoi chiedere alle bugie di Pan cosa? Tako ha ragione è successo e allora ero insomma un'intuizione e l'altro Tako era davvero contenta che Rocky fosse stato ucciso cavolo mi ricordo anche questo oh a chi credo è Pen è Tako Pen è molto sospetto Tako è estremamente sospetta è incredibilmente sospetto Tako è terribilmente sospetta oh non so per chi votare scusa Tako ma io e Pen eravamo compagni di lavoro per tutta la partita devo votarti cosa? beh immagino che devo accettare il mio destino non è la prima volta che vaderla a derivare nello spazio Tako non è una cattiva ragazza oh ho cippato questo che signora che tu eri il il si sono sempre stato io sono stato cattivo tutti questi regali sono per me tutti questi regali sono miei la 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 sono riccio Babonatalex mi ama Babonatalex mi ama è ora di aprirgli e vedere cosa ho vinto uh questo è pesante è molto freddo al dato è strano e il riferimento del reatore? oh ecco cosa sento da Babonatalex con dei tiri che mi ricordano che stavano molto freddi ma Babonatalex dove hai preso questo riferimento del reatore? l'ho rubato del reatore della vostra astro 9 perchè significa che i vostri reatore si stanno surriscaldando ma oh 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 perchè significa che la vostra na... se vi è piaciuto quello che avevas appena visto allora è il momento di iscrivervi e accettatevi per vedere i nuovi episodi di bb come sono alla prossima volta ciao 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 ciao